benvenuti a tutti i video ascoltatori del canale youtube d'italia medievale oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo saggio dal titolo alle origini del welfare radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza a cura di gabriella piccini pubblicato da viella e come mia abitudine io non perdo altro tempo in chiacchiere ma lascerei subito la parola a gabriella piccini che poi ci scoprirà anche un altro ospite di questa chiacchierata prego professoressa grazie grazie maurizio grazie italia medievale per averci invitato naturalmente quando si deve parlare di qualche libro che si è curato o si è così tenuto in culla per tanto tempo è meno facile che parlare il libro degli altri no perché non ci si guarda dall'esterno però ci proveremo perché questo è il format che voi state utilizzando è molto seguito e carino quindi grazie questo questo volume è nato da da una ricerca di gruppo una ricerca impegnativa di gruppo impegnativa nel senso che è durata più anni che è stata finanziata come progetto dal dal ministero dell'università e della ricerca e quindi ha messo insieme un gruppo piuttosto interessante il tema centrale è stato quello un po dei promotori dell'iniziativa assistenziale e come si capisce dal titolo siamo andati a cercare diciamo la storia profonda di quella cosa che noi oggi chiamiamo welfare system che è stato uno dei pilastri sui quali si è basato il modello delle democrazie occidentali del secondo dopo guerra lo abbiamo fatto perché ritenevamo giusto che si fosse più consapevoli neanche nel nostro mondo contemporaneo che appunto il welfare system ha radici profonde e queste radici stanno proprio nel periodo compreso tra medioevo età moderna quando si consolidano e si specializzano delle istituzioni che sono nate e o si sono trasformate proprio con la precisa funzione di fare attività di assistenza e solidarietà in questo volume siamo riusciti a mettere insieme perché è a mia cura ma naturalmente io non ho scritto le cinquecento seicento pagine di questo grosso lavoro c'è presente un quadro di tutta l'italia questa è una novità direi piuttosto interessante perché ci sono anche molti contributi relativi alla alla specificità dell'italia meridionale sul terreno dell'assistenza che è molto interessante perché in genere ci si concentra di più sugli ospedali del nord italia e dell'italia centrale comunale e naturalmente noi sappiamo che chiedere al concetto di welfare di rispecchiarsi almeno un pochino nelle società medievali o di prima età moderna e per quanto fossero evolute è naturalmente una provocazione consapevole con questa noi cerchiamo di ricostruire la nascita appunto della cultura europea della protezione sociale il credito solidale e andando a esplorare abbiamo cercato di fare questo con una cura particolare proprio il ruolo che le collettività ebbero da una parte e dall'altra appunto l'impulso il coordinamento esercitato dai poteri pubblici dall'altro lato proprio nel dispiegarsi di queste prime azioni politiche ora mi piacerebbe forse dare la parola al nostro altro compagno di questa presentazione lo presenti tu o vado io a presentarlo? sì 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 presento io allora abbiamo Franco Franceschi Franco Franceschi ha fatto parte di questo progetto fin dall'inizio è stato un pilastro forte e ha indagato in particolare alcuni aspetti su cui è particolarmente competente e che ora insomma comincerà a dirci bene grazie anche io ringrazio Maurizio Calia Italia Medievale saluto tutti coloro che sono in collegamento è un piacere poter parlare di questo libro a tante voci un libro che come diceva Gabriella è il risultato di un lavoro di anni ed è un risultato collettivo questo ci teniamo a ribadirlo uno degli aspetti diciamo così che si può subito mettere in rilievo in questo discorso sul welfare che naturalmente ha delle forti connessioni con il mondo contemporaneo è la domanda perché partire dal Medioevo partire dal Medioevo perché è proprio alla fine del Medioevo negli ultimi secoli del Medioevo che si sperimentano diciamo così dei nuovi strumenti per poter alleviare le povertà le fragilità, le debolezze che sono in qualche modo legate allo sviluppo stesso della società se noi pensiamo che nella seconda parte del Medioevo il cosiddetto basso Medioevo si alternano due momenti fondamentali uno di grande crescita che comincia nell'undicesimo secolo e che ha probabilmente il suo culmine nel 200 e che poi invece rallenta fino a fermarsi a inizio 300 e poi una fase che una volta si diceva tranquillamente di crisi oggi è stata in qualche modo interpretata in maniera più complessa ma certo una fase in cui questa crescita è finita comunque si voglia leggerla non è un'epoca quella da metà 300 per circa un secolo non è un'epoca semplice quindi da una parte abbiamo come dire le nuove povertà e i nuovi bisogni che sono generati proprio da questo grande rivolgimento sociale determinato dalla crescita c'è sempre anche nei movimenti positivi di sviluppo della società ci sono sempre però dei gruppi, dei ceti degli individui che rimangono stritolati in questo meccanismo e poi invece la fase successiva che di per sé per le guerre per le epidemie che ha un altro genere di difficoltà ecco la cosa importante è che i poteri centrali i poteri municipali cominciarono a considerare in maniera più forte i bisogni e le fragilità di cui dicevamo e cominciarono soprattutto a pensare di intervenire perché questo ritenevano che fosse loro responsabilità loro dovere questo tipo di interventi questa varia tipologia di interventi diciamo così che si compose certo non in una maniera automatica né semplice però diciamo in uno sforzo complessivo di contrastare diciamo così il disagio sociale e quindi nacquero proprio delle politiche che usando il linguaggio moderno potremmo definire anticicliche in quanto lottavano contro gli effetti delle crisi delle difficoltà sulla popolazione più fragile io posso aggiungere una cosa che quello che abbiamo potuto sviluppare come riflessione comune è che più che una galoppata trionfale fu muovere verso una progressiva avvicinamento progressivo a un sistema nuovo che proponesse appunto queste soluzioni e che Franco ricordava alla solitudine alla miseria al bisogno alla malattia e queste soluzioni furono progressivamente messe a punto quindi furono gli ospedali furono i ceppi le confraternite le corporazioni di antelemosinieri le misericordie le brosari i brefotrofi per l'accoglimento dei bambini abbandonati i monti di pietà anche tutte istituzioni che ricoprirono questo ruolo a mano a mano più importante come risposta pubblica ecco noi questo abbiamo tenuto a dire è risposta pubblica nel senso che è risposta sociale è la risposta della società al bisogno e in questo processo c'è una progressiva come si può dire presa d'atto da parte della cosa pubblica che nessuna società sopravvive alle sue crisi senza qualche forma di protezione sociale organizzazione dei servizi essenziali questa è una cosa che oggi ci tocca molto da vicino anche questo fatto che le forme di protezione sociale sono indispensabili nei momenti di crisi rimanendo al medioevo pensiamo all'ingaggio dei medici condotti ad esempio da parte del pubblico o l'organizzazione dei sistemi annonari per contrastare la fama e così via di fatto tutto questo comporta un'assunzione di responsabilità di natura pubblica e questo la cosa interessante per quel che ha riguardato i nostri studi è che questo processo è stato per molto tempo lasciato in ombra dalla storiografia italiana meno da quella straniera quella italiana ha interpretato quasi esclusivamente questa proliferare di iniziative di sostegno come manifestazione di un'attitudine religiosa e quindi in qualche modo privata insomma o religiosa o privata slegata da qualsiasi valutazione di tipo sociale e di tipo economico e quindi poi disattenta ai problemi di gestione anche ai problemi di funzionamento del servizio per noi è stata una prospettiva che non è esaustiva ecco è superata in quanto non è esaustiva perché anche la caritas con cui loro chiamano i nostri antenati medievali chiamano tutta la partita dell'assistenza la chiamano tutta carità ma come anche virtù di natura politica la caritas è una funzione del pubblico non è solo la carità come noi intendiamo oggi nel insomma un po' nel nostro linguaggio contemporaneo questo mi premeva metterlo a fuoco Franco d'accordo? Sì assolutamente naturalmente diciamo non è che prima del 200 o del 300 non esistessero i poveri no? Hai fatto un elenco delle categorie che sono varie e numerose con bisogni anche diversi diciamo che con l'espansione economica questa queste varie povertà solitudini difficoltà si manifestano forse in una maniera più forte e stimolano una presa di coscienza differente appunto come si diceva anche del pubblico quindi si passa un po' non so dall'antico compito d'assistenza che veniva affidato ai canonici dei capitoli delle cattedrali che assistevano magari forestieri di passaggio o i poveri locali le vedove e gli orfani si passa o comunque queste iniziative vengono affiancate da altre iniziative che sono iniziative diciamo così nate dal basso per impulso di gruppi di laici di laichi che sono gestite da varie associazioni confraternite eccetera che spesso si distanziano addirittura possono essere anche in contrasto con le gerarchie ecclesiastiche e poi quello che dicevamo cioè l'impegno sempre più forte dei poteri locali dei poteri municipali che si vede come dire in tanti aspetti anche nel fatto che le autorità civili le autorità cittadine per esempio diventano più attente anche nel valutare le iniziative che non partono da loro faccio un esempio per esempio nominano i rettori i revisori di conti di queste confraternite associazioni di beneficenza che si creano oppure esercitano il loro giuspatronato garantiscono i loro incentivi insomma diciamo che si comincia a creare un sistema che ha tanti livelli che ha tanti attori in cui spicca effettivamente questo concetto che assistere e alleviare il disagio sociale era una necessità che faceva parte dei doveri della res pubblica e quindi questo cambia un po' tutta la prospettiva ed è anche probabilmente l'elemento che poi passando ai secoli dell'età moderna costituisce anche il legame più forte con quello che è il sistema del welfare nella modernità si veniva in mente mentre ti ascoltavo che fra questi incentivi c'è anche la defiscalizzazione delle donazioni dei beni quindi io dono ad un'istituzione caritativa e posso detrarre oggi diremmo detrarre dalle tasse insomma in qualche modo delle somme esenti perché appunto lo impegno in una cosa che è di interesse pubblico dell'intera collettività cittadina sì io volevo aggiungere una cosa un aspetto che nel volume naturalmente non posso citare tutti noi non possiamo citare tutti gli autori sono 29 contributi quindi è molto impegnativo però ognuno si potrà riconoscere in qualche pezzo di questo ragionamento mi piaceva aggiungere che molte di queste iniziative che sostanzialmente sono un pulviscolo alcune grandi altre più piccole si organizzano e nel volume viene fuori con chiarezza in delle reti assistenziali che in casi più maturi diventano addirittura dei sistemi territoriali anche macro regionali cioè c'è un ospedale capofila diciamo che poi gestisce e tiene sotto controllo degli ospedali minori anche in sedi abbastanza distanziate e con un'offerta di posti letto che tutto sommato non è poi così distante dagli standard attuali anzi naturalmente fatte salve le differenze perché nell'ospedale medievale si fa un po' di tutto si assiste bambino abbandonato la vedova il malato il viandante eccetera nei nostri ospedali oggi sostanzialmente si fa invece solamente assistenza al malato o prevenzione della malattia comunque sia oggi in Italia il tetto ideale è fissato a 3,7 posti letto per mille abitanti ecco se noi andiamo a prendere la cronaca di Giovanni Villani per il 1338 troviamo un dato di mille posti letto per centomila abitanti di Firenze quindi sostanzialmente dieci posti letto per mille abitanti più del doppio del quasi tre volte l'attuale ora naturalmente fatte salve le differenze le funzioni e che cosa si svolge all'interno però c'è una rete capillarmente diffusa sul territorio sui territori larghi e anche poi sui territori cittadini all'interno delle città oggi quando si dice la rete sul territorio è rivenuta di grande attualità il problema della sanità territoriale lì era una miriade di micro luoghi che naturalmente diversificando le funzioni però coprivano a decine a volte i territori urbani decine di istituzioni e quindi piano piano noi vediamo mettersi in moto delle macchine sempre più potenti che poi stabiliscono anche una serie di relazioni col sistema di potere delle città diciamo sì mi viene in mente fra l'altro che pur avendo centrato la nostra attenzione soprattutto sulle città o anche sui regni per esempio nel caso del regno e dei regni meridionali italiani e non solo però diciamo ci sono anche molti spunti per quanto riguarda questi aspetti del territorio della campagna tra l'altro si vede anche come i modelli che sono i modelli di assistenza di organizzazione dell'assistenza nati in ambiente urbano in qualche modo si riproducono anche nelle realtà più piccole nelle realtà delle campagne dei territori quindi diciamo anche questo è un segno della forza di queste costruzioni e poi diciamo tornando alla tipologia un po' delle attività a soccorso appunto di questo disagio mi premeva così sottolineare come diciamo ci sono anche dei gruppi particolari che non soltanto beneficiano diciamo dell'assistenza pubblica ma in qualche modo si auto-organizzano penso per esempio al mondo del lavoro al mondo soprattutto dell'artigianato che crea proprio confraternite a base professionale legate spesso a piccoli ospedali che svolgono diciamo questa attività integrativa in qualche modo dell'assistenza più generalista proprio per i propri iscritti un po' come fanno anche le corporazioni anche se normalmente si dice che le corporazioni di mestiere tendono a perdere questo tipo di funzioni nell'ultima parte del medioevo in realtà non è proprio così ma certo che la realtà confraternale diventa molto forte così come potremmo aggiungere anche se c'è magari il tempo ne parliamo un attimo tutto il mondo delle confraternite a base regionale nazionale diciamo così quindi degli stranieri dei forestieri comunque sì questo mondo diciamo del lavoro che si autoorganizza ha dei caratteri abbastanza particolari una cosa forse che è un aspetto in parte negativo è il fatto che queste iniziative sono quasi sempre rivolte verso i ceti artigianali cioè sono loro che creano queste strutture mentre per esempio nei confronti del lavoro salariato dei dipendenti subordinati è difficile che esistano iniziative di questo tipo altro altro tema che anche per dare un'idea un po' più variegata un altro tema di cui dobbiamo tener conto è che naturalmente ci sono grandi ospedali anche confraternite molto importanti e ci sono invece magari piccoli ospedali di campagna di montagna di strada che svolgono magari funzioni limitate ecco non tutti fanno le stesse cose per esempio alcuni distribuiscono soltanto le lemosine alcuni accolgono per brevi periodi altri a lungo alcuni di queste istituzioni si specializzano nell'assistenza a particolari fasce di persone carcerati malati lebrosi addirittura feriti nei tornei nelle giostre o mutilati dalla giustizia poi c'è tutto anche l'ambito diciamo del mondo femminile le ragazze le fanciulle povere quindi senza dote le vedo perché spesso sono in difficoltà le donne maltrattate dai mariti i bambini abbandonati insomma è veramente un un pullulare di iniziative che credo questo libro con i suoi vari contributi contribuisce a delineare a far risaltare in una maniera in cui forse non si era diciamo mai fatto prima ecco questo credo che sia importante da dire c'è una categoria di cui mi sono dimenticato nel mio elenco ma lo dico subito i cosiddetti poveri vergognosi cioè i declassati gli impoveriti che sono una particolare categoria perché chi ha avuto un certo grado di benessere e di agiatezza diciamo impoverendosi forse aggiunge alla sofferenza delle difficoltà economiche o di salute o di qualsiasi altro tipo diciamo anche quelle di aver perso lo status e si chiamano proprio poveri vergognosi perché normalmente non si mostrano nemmeno come dire non si palesano neanche nelle loro richieste ma vengono diciamo assistiti con discrezione ma ho parlato troppo e credo che sia il caso di lasciare come si diceva una volta facendo anche qualche battuta una cosa è passare dal bracere al termosifone una cosa è passare dal termosifone al bracere evidentemente esattamente il declassamento c'è un dolore sociale maggiore giusto questo stava dicendo Franco io vorrei dire anche un'altra cosa nel volume diversi contributi un'ampia sezione del volume diversi contributi si dedicano si concentrano sul tema del come si finanzia e come si amministra l'assistenza o quanto di attualità anche questo perché il tema del finanziamento è fondamentale e credo che appunto una serie di studi si possono mettere in evidenza perché si sono concentrati su questa crescita imponente del numero dei testamenti che prevedevano l'asciti a sostegno degli istituti che si occupavano di assistere i deboli il testatore che cosa faceva era molto attento non solo al destino della propria anima ma anche a promuovere qualche forma di restituzione sociale di restribuzione delle ricchezze nel mondo reale quindi forse anche consapevole della grande responsabilità di questi istituti preposti a far funzionare l'assistenza responsabilità quando le spese superano le entrate e diventa gravissima se non c'è un sostegno che alimenta quindi ci sono tanti testamenti donazioni di denaro ma anche donazioni di beni che potessero fornire una rendita per far funzionare l'istituzione un po' come delle fondazioni sostanzialmente poi alla fine che poi rendono questi ospedali degli interlocutori fidati per la persona per tanti cittadini nel momento che dovrebbero avvicinarsi la morte che cercano uno strumento perché la ricchezza dei più agiati prenda una direzione socialmente utile ognuno di noi lo legge come un afflato più religioso un afflato più sociale ma di fatto è una cosa che agisce sulla società ecco questo non so se sei d'accordo Franco sì 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 fra l'altro diciamo che non abbiamo mostrato un indice non abbiamo citato appunto i saggi perché sono troppi però possiamo dire che da questo punto di vista ci sono molti come dire esempi di come queste questi organismi appunto si finanziano e vengono gestiti e che non sono oltre sono esempi anche appunto di grande livello insomma si parla di Milano di Firenze di Siena di Palermo di Napoli di Parigi di Barcellona si arriva fino in Transilvania di Napoli sì l'ho citato scusate si arriva fino in Transilvania e quindi diciamo attraverso questi studi e questi esempi si vede poi concretamente come qual è la ricchezza economica il peso politico le modalità di gestione di alcuni dei più grandi ospedali italiani ed europei che possiamo dire assunsero in qualche modo dei connotati imprenditoriali tutto il tema poi dell'ospedale anche impresa dell'ospedale azienda perché qui si tratta di organismi spesso guidati da da uomini con competenze importanti e che sanno appunto far fruttare diciamo anche dal punto di vista economico le basi le risorse su cui possono contare un altro tema che abbiamo sviluppato molto sia nel volume ma devo dire anche in tutta la ricerca che ha prodotto molti volumi devo dire in questi quattro anni abbiamo avuto una produzione molto ricca di storia ospedaliera e questo essere riusciti a mettere aver tentato almeno di mettere a fuoco la ricchezza infinita quasi infinita che hanno gli archivi ospedalieri e confraternali sono delle delle miniere di informazioni non solo per la storia delle istituzioni che l'hanno prodotte ma anche per la storia dei territori su cui agiscono perché lì noi troviamo gli elenchi i numeri dei morti le malattie gli elenchi degli assistiti quindi a volte sono addirittura le uniche fonti in grado di farci penetrare nella società urbana non fermandosi agli strati superiori che sono meglio documentati e conosciuti ma arrivando fino a queste componenti più deboli e bisognose di tutela e genere sfuggono a ogni tipo di altro tipo di documentazione c'è una serie di saggi molto interessanti su proprio le donne come assistite e come assistenti all'interno della struttura ospedaliera molto molto interessante comunque sicuramente le carte che sono conservate negli archivi ospedalieri che sono state indagate in queste 600 pagine o che comunque fanno riferimento a queste istituzioni contribuiscono a definire i caratteri non solo degli ospedali o delle confraternite ma di intere società urbane o rurali e anche appunto le forme delle risposte ai bisogni crescenti che queste sembrero immaginare o organizzare insomma in qualche modo sì sì un po' diciamo da quello anche che siamo venuti dicendo possiamo considerare l'ospedale almeno l'ospedale urbano come una sorta di correttivo sociale che opera e in qualche modo allarga la cittadinanza che diventa un interlocutore per tanti cittadini perché è un ente attraverso il quale la ricchezza dei ceti più abbienti può prendere una forma socialmente utile cioè convertirsi in servizi per tutti e questo naturalmente a partire dal bisogno diciamo di base cioè nei momenti in cui c'è penuria di pane c'è la fame uno dei modi appunto in cui la povertà è più facilmente visibile un esempio un paio di esempi Girona una città della Catalogna che contava circa 8000 abitanti ha questa istituzione la Pia Almoina che è data nel 1347 pensate forniva 2500 porzioni di pane sostanzialmente dava assistenza alimentare a quasi un terzo della popolazione ma questo poi si riscontra per dire in tante altre realtà magari più in piccolo ricordo presi appunto dai vari studi del libro casi anche micro casi specifici di famiglie che hanno in sostanza sono state assistite proprio per quanto riguarda i beni alimentari con una con una quantità tale che di fatto sono state mantenute per se non tutti i mesi dell'anno ma una buona una buona parte che voleva dire che senza l'ospedale non avrebbero potuto sopravvivere un caso naturalmente presente è quello di Siena dell'ospedale della Scala Siena che ha una documentazione molto molto ricca ecco l'ospedale il grande ospedale senese era obbligato dal comune a conservare il grano a disposizione della città pur anche a venderlo a prezzo politico o anche a distribuire gratuitamente appunto le forme in occasione delle carestie mi viene in mente un caso che Gabriella ricorderà certamente di un tumulto per il pane che stava diventando molto pericoloso ci sono dei morti e dei feriti e tutto si acquieta quando dall'ospedale si aprono le porte e si comincia la distribuzione insomma davvero è in questo caso il grano e il pane che l'ospedale Santa Maria della Scala conservava è davvero il grano per lo popolo di Siena come si trova scritto nelle fonti qualcosa che è davvero ci fa capire tutta l'importanza di questa realtà nel tessuto della città anche se dovrei lo dovrei tacere parlando di Siena essendoci qui Gabriella Piccini ma mi sono avventurato appunto più mi rendo conto di quanti temi dovremmo toccare comunque almeno illustrare un po' la complessità dei temi che abbiamo affrontato in questo volume c'è questa grossa partita dell'impegno nel mondo finanziario della finanza perché ci sono ampie testimonianze di istituti di assistenza che già nel corso del quattordicesimo secolo cominciano a rastrellare il risparmio di cittadini a prendere depositi bancari investono e poi prestano allo Stato la liquidità ottenuta e quindi è come se fossero i forzieri anche non solo i granai della città come ha detto Franco ma anche i forzieri della città questa liquidità che è depositata lì e che poi serve progressivamente poi col passare del tempo attraverso la nascita ai monti di pietà vengono traghettate queste istituzioni anche verso il piccolo prestito al consumo e poi ancora andando avanti agli inizi del Cinquecento soprattutto in Italia Meridionale abbiamo seguito la trasformazione dei monti di pietà e degli ospedali in banchi pubblici che è un nodo nevralgico della storia dell'assistenza e anche del piccolo prestito e anche della finanza insomma l'organizzazione finanziaria dell'Italia Meridionale Allora tanto per aggiungere un altro tema ci sono alcuni saggi che diciamo guardano al tema dell'assistenza sotto una angolazione particolare avevo fatto un accenno prima cioè quella diciamo dell'assistenza ai forestieri agli stranieri che spesso e lo vediamo ancora benissimo oggi aggiungono alle difficoltà economiche diciamo lavorative di inserimento di radicamento proprio quelle di non essere cittadini di essere forestieri ecco e anche da questo punto di vista bisogna dire che ci sono come dire sia iniziative pubbliche dei grandi enti municipali sia iniziative anche di auto organizzazione come sono citavo prima le confraternite citavo le confraternite di mestiere ma ci sono anche confraternite su base professionale su base scusate nazionale diciamo così regionale i tedeschi o comunque i tedeschi dell'alta Germania della bassa Germania gli albanesi gli schiavoni tutto quindi il mondo balcanico ecco naturalmente come sempre e anche qui direi che il legame con l'oggi è molto forte il profilo la fisionomia di una comunità e in questo caso anche del suo sistema di welfare si misura molto bene di fronte a questo tipo di interlocutori che non sono i tuoi diciamo come come si direbbe oggi sono gli altri e questo però è qualcosa che comunque comincia a maturare e al punto che in qualche modo possiamo dire che questo sistema di welfare definisce una città non soltanto appunto di fronte ai suoi abitanti ma anche a quelli del territorio circostante come abbiamo già detto e anche di fronte ai forestieri e agli stranieri e è interessante diciamo il meccanismo anche mentale anche psicologico per cui questo tipo di intervento diventa anche una manifestazione di orgoglio cittadino la capacità dei grandi ospedali degli enti assistenziali urbani di rivolgersi anche a questo tipo di interlocutori quasi come come lo sono le cattedrali i palazzi pubblici cioè anche l'assistenza diventa un elemento che contribuisce a definire il modo in cui la città viene percepita dai suoi abitanti anche dai forestieri che magari la descrivono in alcuni casi nei loro diari è un capitolo diciamo ancora aperto ci sono poi moltissimi studi però è una strada secondo me molto proficua anche di ricerca sì su questo si può aggiungere che c'è proprio una sezione anche del volume che è dedicata a questa che noi abbiamo chiamato un po' la narrazione dell'assistenza perché abbiamo cominciato a mettere a fuoco questa funzione ricoperta dagli istituti di assistenza nei processi di definizione del sentimento di appartenenza alla città magari non è stata sempre inquadrata con chiarezza la storiografia però merita uno spazio nel contesto di una riflessione sia sulla storia dell'assistenza sia sulle forme dell'identità urbana la città si presenta attraverso il suo grande ospedale in certi casi e basta pensare all'imponenza architettonica di alcuni di questi edifici dove si organizza l'erogazione del credito solidale o appunto o dell'assistenza e poi basta pensare che alcuni di questi edifici stessi via via sempre più maestosi poi si sono riempiti di opere d'arte di oggetti di immobilio altari reliquie che attestano questi patrimoni devozionali molto preziosi ma che sono da ostentare da mostrare l'istituzione stessa li fa vedere i suoi benefattori chi li ha donati perché tutto questo accresce la reputazione e lubrifica anche naturalmente il flusso delle donazioni si dona all'ospedale importante perché è sicuro e ricco e questi complessi edilizi almeno dal XIII secolo diventano dei nuclei di protezione sociale certo ma che sono ben riconoscibili nello spazio urbano spesso in punti nevralgici dello spazio urbano confluire di strade di piazze importanti sono scenari di cerimonie pubbliche solenni le fanno davanti agli ospedali certe cerimonie quindi è molto importante e poi appunto un ultimo tema che abbiamo affrontato in questo tema della narrazione dell'assistenza un po' appunto più sui modelli ideali è questa della proposta che viene fatta di modelli di santi che proteggono o proteggono gli ospedali o aiutano le persone in difficoltà aiutano i poveri le fanciulle senza dote si pensi a uno degli episodi più noti della vita di San Nicola il miracolo che quel santo poi dona questi lingotti d'oro monete d'oro all'uomo che ha tutte queste figlie e non riesce a dotarle quindi altrimenti dovrebbe avviarle alla prostituzione le salva attraverso la donazione per la dote quindi c'è un'iconografia della solidarietà che si arricchisce quindi insomma c'è stato anche una parte del volume che è dedicata ai miracoli del welfare e poi un'attenzione anche alle esperienze museali dell'assistenza che sono un po' in atto in tutta Europa e dove pare che poi quelli più riusciti e interessanti siano quelli in cui l'ospedale non è diventato un vuoto una scatola vuota un contenitore vuoto che viene riempito con qualcosa ma dove la narrazione si è legata allora l'ospedale è tanto bello c'è tante belle opere d'arte da far vedere ma perché è un ospedale perché è nato con questa funzione perché perché si è arricchito appunto di di questi beni che servono appunto a ostentare l'istituzione stessa quindi c'è anche questo panorama qui non so io credo che abbiamo forse toccato non tutti i temi ma insomma toccato i principali temi Franco se hai qualcosa da concludere mi veniva in mente soltanto un piccolo aspetto quando parlavi del fatto che in effetti anche in crona e in diari troviamo celebrati queste istituzioni per la loro funzione ma spesso anche proprio per la loro magnificenza per le architetture eccetera e non a caso queste istituzioni diventano poi anche dei committenti importanti anche da questo punto di vista diciamo si può dire qualcosa come lo sono le istituzioni ecclesiastiche come lo sono insomma i grandi patrimoni le grandi famiglie con i loro palazzi diciamo anche queste queste istituzioni sono importanti finanziatori di questo movimento diciamo che poi si vede bene nel 400 e nel 500 che arricchisce la domanda in qualche modo ma qui si aprirebbero tutti altri scenari noi pensiamo penso che tu sia d'accordo con me abbiamo fatto questo grosso sforzo di alcuni anni per proporre ma questo è solo un punto di partenza cioè la cosa bella sarebbe che da questi tanti temi che abbiamo messo dentro a questo volume partissero nuove ricerche perché i libri che sono conclusivi sono sempre noiosi è molto interessante che i libri aprano fiste di ricerca e non richiudano quindi diciamo noi ci siamo posti in questo modo no? speriamo che la ricerca vada avanti questo questo sarebbe diciamo la soddisfazione più grande bene benissimo davvero interessante molto interessante io quindi ricordo il titolo del libro che è alle origini del welfare radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza che è a cura di Gabriella Piccini pubblicato da poco da Vielle editore e un libro che insomma è una bella mole di libro che sono 660 pagine quindi bisogna andare con delle borse belle solide per poterlo portare a casa però ne varrebbe davvero la pena anche per sfatare tanti altri miti soliti sul medioevo buio e barbara questo sarebbe proprio uno degli esempi migliori rispetto a una società che ci sembra così lontana e che invece è arrivata fino a noi lasciando tracce importanti a Milano abbiamo la Cagranda tanto per dirne una giusto così a passare e sfoggiare un po' di cultura che ogni tanto ci vuole quindi io vi ringrazio tantissimo per aver accettato di partecipare a questa videopresentazione ringrazio Gabriella Piccini e ringrazio Franco Franceschi ricordo ai nostri videoascoltatori di seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org dove trovate anche tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in questo lunghissimo anno pandemico e grazie a tutti ancora e a presto spero in presenza la prossima volta allora noi salutiamo chi avrà avuto la voglia di ascoltarci la pazienza ad ascoltarci questo viaggio e ringraziamo ancora una volta Italia Medievale grazie anche da parte mia è stato molto piacevole essere con voi naturalmente speriamo di tornare presto con altri libri e con altri argomenti grazie a tutti Grazie per la visione!